Ciao, sono Michela Galletti, home stager professionista specializzata nella preparazione di case vuote per la vendita. Sono master trainer dell'area staging e accompagno gli allievi nella parte pratica dell'allestimento e del preventivo economico, portando la mia esperienza decennale sul campo. Il mio motto è La fortuna sorride a chi si prepara. Attraverso l'home staging creo spazi confortevoli per offrire a chi li visita un'esperienza tale da farli decidere di acquistare quella casa. Sono presidente dell'associazione di categoria professionale home staging lovers e a fine percorso potrai unirti anche tu al gruppo di professionisti più attivi d'Italia. Grazie a tutti.